Un pensionato di Valle Lunga, in provincia di Caltanissetta, è morto in un incidente ferroviario sulla linea che collega Palermo al comune Nisseno, nelle vicinanze di Valle Dolmo. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e gli agenti della Polfer, che hanno tempestivamente iniziato le indagini per cercare di fare luce sulla drammatica vicenda. Inoltre è arrivato anche il medico legale per decidere se disporre l'autopsia sul cadavere dell'84enne.